Fino da argentino, io sono di Buenos Aires, e so che c'è un bel episodio con Diego Armando Maradona. Sì, c'è un paio di episodi con lui. Nello stadio al San Paolo di Napoli, una partita di Coppa Italia, Napoli-Arezzo, una punizione, era il suo marco di fabbrica, quindi una punizione al limite dell'aria, in porta c'ero io. Quando hai preso quel primo gol ti sei comunque arrabbiato, anche se era Maradona. Lì per lì mi sono arrabbiato, sì. Ora a distanza di anni posso dire che è stato veramente un orgoglio essere il primo portiere a aver preso gol da Diego Armando Maradona.